Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema di carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono latte, carote tagliata a pezzetti, olio evo, dato vegetale bimbi, sale, pepe e noce moscata. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. riunire sul fondo del boccale con la spatola ed azionare nuovamente il bimbi per 10 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'olio, il latte, il dado, la noce moscata, il pepe e un pizzico di sale. Ed azionare il bimbi per 20 minuti, 100 gradi, velocità 2. Azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 8. La crema di carote è pronta. Impiattare, decorare a piacere e servire. Crema di carote. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.